La notizia del giorno nel corso di una presentazione alluvionale della lista di Fratelli d'Italia a Campobasso con ben 11 interventi messi in fila, l'ha data il presidente della regione molise, Francesco Roberti, l'ex hotel Roxy di Campobasso, diventerà sede degli uffici regionali. La notizia, data in diretta al candidato sindaco del capoluogo Aldo De Benedittis, è durata mezzo minuto, ma è una di quelle notizie bomba come quando Papa Ratzinger decise di dimettersi e lo disse a mezza bocca. Ciò detto, torniamo alla manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per presentare la lista dei 32 candidati in corsa per il consiglio comunale del capoluogo. Per l'occasione è arrivato in regione Marco Marsilio, storico esponente della destra e soprattutto presidente della regione Abruzzo. Una parentela, quella con il molise, che da geografica è diventata anche politica e che con l'elezione di Aldo De Benedittis potrebbe rafforzarsi. Siamo qui intanto a sostenere il nostro partito, la corsa anche per la candidatura a sindaco a Campobasso perché vogliamo avere rapporti istituzionali solidi, forti, una filiera istituzionale tra Abruzzo e Molise che sta già dando ottimi risultati perché con il presidente Roberti, come prima anche con Toma, c'era un'ottima collaborazione. Abbiamo anche costituito, come sapete, un appatto di sindacato territoriale per sviluppare politiche di area vasta su tutta la dorsale adriatica centro-meridionale che coinvolge dalle Marche fino alla Puglia e continueremo a lavorare per far crescere le infrastrutture. Lo stesso vale per il rapporto con l'Europa. Abruzzo e Molise hanno due candidature forti che stanno sostenendo insieme sul territorio e sono venuto anche qui per rinsaldare questa possibilità di mettere insieme nella lista di Fratelli d'Italia i candidati abruzzesi e molisani. Quella del partito di Giorgia Meloni è l'ultima lista ma solo in termini temporali ad essere presentata. In realtà si tratta di una lista molto pesante, ha detto il candidato sindaco Aldo De Benedittis. Come si dice, dulcis in punto, mancavano solo loro, una lista veramente una corazzata che sicuramente prenderà molti voti qui a Campobasso, ci sono giovani, imprenditori e tante persone che sicuramente prenderanno molti voti e grazie a loro che sicuramente vinceremo in questa città di Campobasso. Adesso questi ultimi 11 giorni bisogna correre, io ho basato la mia campagna elettorale con il porta a porta a guardare in faccia gli elettori, mi dovevano guardare negli occhi, io devo guardare negli occhi loro. Gli altri adesso ci vogliono attaccare su alcune cose ma noi non gli rispondiamo neanche perché sappiamo di stare in vantaggio e ce lo porteremo fino alla fine di questo vantaggio. A ribadire l'unità del centrodestra e la possibilità di conquistare il comune di Campobasso è stato il presidente della regione, Francesco Roberti. Dopo aver preso le nostre decisioni si esce tutti convinti nel sostenere il candidato. Noi abbiamo già ribadito tante volte che Aldo è il candidato che in qualche maniera ha fatto sintesi abbiamo ringraziato tutti gli uscenti che avevano pari dignità di rivendicare la candidatura a sindaco ma intelligentemente e con maturità politica si sono messi al fianco di Aldo e oggi sostengono la campagna elettorale per questo nostro candidato e quindi siamo convinti di ottenere un ottimo risultato, anzi siamo convinti di vincere. Presenti all'incontro anche i parlamentari Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta i candidati alle europee la molisana Mariangela Di Biase e Nicola D'Ambrosio il presidente del consiglio regionale Quintino Pallante l'assessore Michele Iorio e il capogruppo in regione di Fratelli d'Italia Armandino De Giglio a fare gli onori di casa il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni Filoteo Di Sandro